Ciao ragazzi Io sono Danny Lion e sono felice Felicissimo di fare questo video su FIFA Questo è il terzo tentativo che facciamo per giocare Perché nel primo video La mamma di Danny rompe il cazzo In secondo video la mamma mia rompe il cazzo E nel terzo video se qualcuno rompe il cazzo Prendo e lo ammazzo di botte Stiamo facendo un amichevole contro E io userò la squadra spagnola Mentre Danny userò una squadra che è troppo forte A cazzo di cane Troppo forte Comunque questa parte qui non ve la taglierò Poi nella partita vedrete solo le azioni salienti Per il semplice fatto che Voglio dirvi che FIFA lo vedrete un po' più spesso Adesso sul canale Perché se volete altri amichevoli Contro Danny, contro Marci, contro Alice Contro Gesù Bambino Ditemelo Me lo scrivete nei commenti Mentre tra una settimana e mezza A due settimane Partirà una cop Con uno youtuber Che non saprete il nome È Pegas È vero però Ok E praticamente ci sarà la Road to Division 1 in cop Un po' come la feci un po' tempo fa E adesso abbiamo voglia di portarle insieme Comunque non so se avete visto la squadra di Danny Fortissima Sicuramente è molto più forte della mia Beh sì dai Ammettilo 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 Oh l'ho ammesso No non ti ho sentito ammetterlo Eh lo bocciano Io l'ho ammetto Ora potete fare tutti i remix belli Hernandez Hernandez Minchia Non era rigore Figa L'hai atterrato Eh oh sono un pilota L'hai sedato come un elefante In realtà quello lì non è un difensore Un pilota L'hai sedato come un elefante E quando i duri iniziano a cagare Io incomincio a cagare Sì vabbè scopriamo Mamma mia Perde palla Perfetto Perché ti ride città laggiù Eh perché città laggiù è mio amico No ma non lo sapevo Danny mi ci porti un giorno No No Ma Comunque regà ditemi anche se nel frattempo Che aspettiamo una Road to Division 1 in coppo Con questa persona che tra l'altro adesso Non è qui Cioè proprio è partita in vacanza E Ditemi se volete una Road to Division 1 da solo Purtroppo la Road to Division 1 dovrebbe partire dalla Division 10 Peccato che io ci gioco già E sono in Division 7 Però sono scarso Quindi Durerà più o meno tutta la vita la serie Fino a FIFA 2017 Ah regà tra l'altro Questo video qui Se tutto va bene Se tipo Eh vabbè Violentamelo analmente poi anche Sì dai vai Il terzo Poi la mente di voi Dovremmo Dovremmo Dovreste vederlo in 60 1080 per 60 fps E spero di aver fatto tutto correttamente Perché la prima volta che registro con Shadowplay E renderizzo con Adobe Premiere Tutto questo grazie a Dani Perché è lui che usa queste cose E quindi Mi fa lui da maestro Quindi se qualcosa è sbagliato Date la colpa a lui Non a me Dani Alves Sì Ho uscito Ah pensavo a Daniel Alverlina Gli ho fatto saltare via un panino Dalle mani Cazzo Ma hai calcio d'angolo Ah no No Ho tirato proprio fuori Proprio in mezzo alle palle Mi hai tirato la difensione Rodriguez Rodriguez No Sì 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 Tutta la squadra adoro Mi fa sti guardi Tony Cross Un cross Tony Cross Che in realtà non crossa Però tira Hai piaciuto la battuta Ah Ok Però rido dopo dai Ok Ti la ricordo dopo così ridi di più Sì grazie Va bene Vai 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 Girati No Oh mia Tira Sì Sì Oh sì Bello Guarda guarda I miei giocatori sono al rallentatore Guarda 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 che devi fare gol per forza Guarda sta succedendo ogni cosa Molimi un tumore a uno Entra il medico Eh c'è un tumore No Tutta la squadra lì e fai gol Comunque raga Come avete potuto vedere La squadra di Daniel è leggermente un pochino più scar- Cioè non leggermente È più scarsa della mia Avremmo potuto fare L'amichevoli con le squadre originali praticamente Però purtroppo Dani ha la versione solo per ultimi team Quindi se qualcuno di voi tipo oggi avanza una gay di FIFA 15 La dia a Dani Così possiamo fare le sfide con squadre equilibrate Così posso fare le cop con Vegas Esatto Che me l'aveva chiesto ma io gli ho detto no Perché sono povero Sì vabbè che cosa era Riparliamo Sì guarda Cristo Dio È morto Quella ragazza Ha ucciso la carica Per rigore Bello FIFA Complimenti Non ci credo Non ci credo Non ci credo Sto male Sto male Sto male Sto male Eh rigore netto Sì Guarda Ma se sei crollato cazzo Il rigore netto ha detto Come faccio a fare l'altro ma Gol James Rodriguez Dani Cos'hai da dire Quarattacinquesimo Porca troia Porca troia Regà Tutti nei commenti Hashtag Porca troia Griezmann Si dimentica Del pallone Del rosso Griezmann La recupera Oh Rigore netto Complimenti Cartellino rosso Vai a casa Bravo Complimenti Testa di merda sei Veramente? Sì Sì Ciao Luke Show Ancora rigore Incredibile Barazzano Farne fuori da soli poi Cristo Dio Attenzione Perché Sul dischetto Potrebbe non andare James Rodriguez Potrebbe andare lui Potrebbe andare lui Lui Diego Alvesh Che tra l'altro Ha una barra verde Invisibile Non so come farò A segnare Io rimarrò fermo E la parerai Perfetto Che bello Parare di rigori Tira in porta Tira in porta Suga No Porco No Che figlio di puttano 2 a 1 Meritatissimo Questo gol Il gol Meno meritato Della storia Stai zitto che hai preso Un rigore imbalazzante Attenzione Griezmann Griezmann La roulette Non va Griezmann Ancora lui Prende palla In mezzo a 2 Va via Griezmann Non va Io ci tengo a precisare Che lui sta giocando Con tutta la squadra d'oro Ma così tanto per dire Non sono i cavalleri Dello storia Ma porco Sì vabbè Era pure fallo tuo quello Sì sì Beh ovvio Ma mia Cambio di fascia Dello feo Il dribbling Oh Sì dai Dagli rigore anche Mi raccomando Cioè mi cade addosso Era più rigore questo Che quello Guarda quest'altro Il coglionito Ti prego Vieni Perché non gli viene Un diabete Istantaneo Un diabete però Le mestruazioni Cazzo Mentre corre Fa Oh Rodriguez James Mamma mia Mamma mia James Rodriguez 3 a 1 Per gli FDL Contro i rioncini Grazie Guarda che non sai neanche passare La palla di testa Cristo Dio Mamma mia Che 1-2 fantastico Dello feo Ancora E arriva E arriva il 4-1 E chiama Ti devo Mandare l'account Madonna Ti deve venire Il diabete origin Cazzo Lo apri Oh non posso Perché c'ho il diabete E arriva il 4-1 E il 4-1 E il Danny Lion Socconde Incredibile Ma l'hai visto il difensore cosa ha fatto? Io volevo andare il tiro a esciate Però non so come si fa Spiega Mi anche quello Per favore 5 minuti di recupero Ho tempo per farne un altro Porca puttana No perché non siamo Un tiro e un gol No 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 Ma va Non è per niente Porca puttana Che gol ho fatto È un gioco per professionisti FIFA Che gol ho fatto Minchia Minchia Gol Ci è andato vicino C'entrava Minchia Te l'avevo vinta Quintavo Te lo giuro Quintavo Il gol della merda Hai fatto Ma sei un cancro Cazzo Non va Mamma che schifo Uh proprio E finisce qui Finisce qui ragazzi Mi dovete disiscrivere Nel canale di Dato 6 a 1 6 a 1 Disiscrivetevi tutti Nel suo canale Ok In descrizione trovate Il canale di Dato Nel cui vi consiglio Di iscrivervi E la mia pagina facebook A cui vi consiglio Di lasciare un like Perché comunque Non iscrivervi Tutti gli spoiler Spoiler tra molte virgolette Li trovate su quella pagina Come sempre Vi invito a lasciare un like Commentare Condividere Iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti Datevi saluta E bella Banana fritta